ciao cara signora allora no intendo andare in giro combinata come hai visto nel video che di cui stiamo parlando che hai criticato diciamo bonariamente io la prendo bonariamente allora era una prova visto che ho comprato varie extension volevo vedere se potevo fare delle combinazioni visto che utilizzo le utilizzo in combinazione eccetera sinceramente non piace nemmeno a me usare le due le due code abbinate ho provato e così e ho messo il video per perché mi faceva piacere condividere proprio anche proprio per far capire che certe cose si possono utilizzare in combinata però insomma non ovviamente non 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 piaceva nemmeno a me altra cosa è il discorso capelli corti no io non amo i capelli corti quindi poi questa storia del taglio moderno io mi domando sinceramente che cosa significa il taglio moderno quello che è moderno per me potrebbe non esserlo per te e viceversa quindi io vedo tante volte tante signore che vanno in giro con dei tagli omologati ecco no non è non fa per me assolutamente non fa per me io amo i miei capelli lunghi e mi piace cambiare tanto sì mi piace molto mi piacciono parrucca mi piacciono extension mi piace tutto quello che può cambiare mi piacciono lisci mi piacciono ricci però non voglio fare il taglio corto voglio che questo grigio piano piano scenda da solo per avere la mia chioma poi non piace si va avanti tante altre cose ti ringrazio comunque per il tuo intervento ciao